si va giù dritti fino ai 40 se via alla cima ai 40 45 al massimo andiamo a destra e poi ci facciamo un pezzo sui 40 e poi ci passiamo verso il 35 38 fino a trovare il tema dovremmo beccarlo dopo 8 10 minuti visto che la strada la sai e se è capace non è che devi stare dietro a me poi anche standi davanti che ti faccio filmare davanti a fianco ci guardiamo perché non sa mai che c'è bisogno tieni presente con due sedutri e che potrai avere un problema in soltanto ogni tanto guarda guarda indietro andiamo non 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 il Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.